La 27esima giornata nazionale della colletta alimentare dal titolo Facciamo un gesto concreto insieme. L'iniziativa solidale è stata promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e si è svolta ieri in tutta Italia. Gli alimenti donati saranno distribuiti alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare e cioè le mense per i poveri, le case famiglia, le comunità per i minori, i centri di ascolto e l'unità di strada che pensate a Taranto sostengono circa 13.000 persone. Proprio di oggi la notizia è che i poveri sono aumentati a 6 milioni in tutta Italia. È una situazione grave ma per fortuna la giornata nazionale della colletta alimentare è una giornata in cui mette a tema il problema della proprietà e mette al centro il povero. Come? Facendo un gesto concreto che è quello di fare la spesa, ma soprattutto mettendo insieme la comunità fatta da gente che non si conosce ma che insieme vuole contribuire a far sentire meno solo le persone che hanno bisogno. In prima linea il Rotary Club Magna Grecia a Taranto con il presidente Mimmo Barvaglione il segretario Pino Barbera. Un momento di solidarietà effettiva che il Banco Alimentare continua da anni. Il sindaco Rinaldo Melucci. Io vedo questura, schierata, reparto mobile piuttosto che il Rotary cittadino, insomma tanti soggetti attivi che lavorano per l'unità di questa comunità e la solidarietà verso chi è più fragile in questa comunità. È un messaggio, come diceva il presidente Riso, di pace in un momento molto problematico per il Mediterraneo e sono contento che tanti cittadini stiano tra le loro passeggiate, tra il loro shopping dedicando una parte delle loro risorse, del loro tempo a questa iniziativa. La colletta alimentare è stata indetta da Papa Francesco, resa possibile grazie alla collaborazione delle Forze Armate italiane e di altre associazioni. Sta andando abbastanza bene, la generosità delle persone è sconfinata. È chiaro che bisogna fare i conti con l'inflazione perché chiaramente i prezzi degli alimenti sono aumentati essendo rimasti uguali però gli stipendi delle persone. Grazie. 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 Grazie.